Mamma, ci hanno già fregato questa serie, ma noi la doppiamo comunque. Mamma. Ma dove cazzo è? Fra l'altro, questa casa è stranamente pulita, non ci sono più neanche le macchie di vegeta sul tappeto. Non c'è di che, ho appena finito di pulire. C'era davvero un sacco di roba appiccicosa. E tu chi sei? Hai ragione, che maleducato. Io mi chiamo Black Gohan e sono il te di un universo parallelo, molto piacere. Dov'è mia mamma? Oh, sono mortificato, l'ho rapita. Cioè? Devi sapere Gohan, che ormai è da parecchio che tengo d'occhio te e tua madre. Devo dire che tua madre è diventata una vera... ...mala femmina. Ma tu lo sai con quanti uomini ha fornicato? Ho perso il conto su per giù a 500. È ben oltre, perciò ho deciso di riportarla sulla retta via e di farne una signora a modo, allontanandola dai suoi indecorosi... Passatempi. Non ringraziarmi, mi levo subito dai piedi. Tutto fantastico, grandi applausi e cazzi vari, ma è lei che mi dà la paghetta. Perciò... Ridammela. E sentiamo, che cosa mi fai se ti dico di no? Questo. Ah, perdonami se ti ho colpito così forte, caro. Ti dirò che la tua forma base mi sembra... Come dite voi ragazzini? Oh, sì, una mezza sega. Anche la tua forma, Saiyan, la sa alquanto a desiderare. Chiudi quella bocca. Ti chiedo scusa per ciò che sto per farti. E sarebbe? Hai, hai, hai. Ti saluto dandoti un avvertimento. Non venire a cercarci. E concludo dicendoti che questa nuova mamma ti piacerà, te l'assicuro. Ciri ciao! Tutto bene. Ciucciamelo. Ok, tutto bene. E fare non eserci. Grazie a tutti.